un caro saluto da mario giuliacci parliamo del rischio fulmini in estate lungo le nostre spiagge visto che in estate la maggior parte dei vacanzieri preferisce le spiagge della nostra penisola ebbene rappresentano un pericolo i fulmini non solo perché possono colpire la spiaggia e il mare adiacente attratti dalle strutture balneari ma addirittura possono colpire anche se il fulmine cade a 100 metri di distanza perché la spiaggia umida è un ottimo conduttore di elettricità e quindi l'elettricità del fulmine si propaga rapidamente lungo la spiaggia umida quindi assolutamente quando si avvicinano temporale ebbene abbandonare la spiaggia